Come hai avuto l'opportunità di conoscere questi ragazzi? Più piccoli, dei bambini che possono essere ricoverati e di come prendersi cura, ma soprattutto hanno fatto un ragionamento a 360 gradi e mi hanno parlato da giovani di educazione, di rapporto con i genitori, di come le nuove generazioni possono vivere in modo migliore, non subendo i social e i media. In questa fase di progetto io credo che le istituzioni dovrebbero anzitutto essere messe a condizione di conoscerlo nei dettagli per capire quelle che sono le finalità, e cioè dare la possibilità, dare un'alternativa ai genitori che molte volte, e lo dico da genitore, si sentono anche soli, e dare un'alternativa ai bimbi che anche si sentono soli, non solo ai bimbi, anche agli studenti che frequentano le scuole superiori, e loro secondo me potrebbero essere una figura proprio di mediazione, e io credo che con questo progetto anche la politica abbia un'opportunità, l'opportunità di mostrare la sua faccia migliore, che è quella del prendersi cura degli altri. MyFairy nasce e vuole essere una piattaforma per l'educazione e per l'intrattenimento dei bambini, come alternativa ai social media e ai videogiochi. Il progetto nasce nel dicembre 2022 in una cameretta del Morosini, a Scuola Navale di Venezia, in maniera molto spontanea, con l'obiettivo di fare qualcosa di positivo per il sociale e per le future generazioni. Il progetto è arrivato al punto in cui stiamo sviluppando contemporaneamente una web app, che avrà la funzione di piattaforma unica per integrare tutti quanti i nostri prodotti dedicati ai bambini, e allo stesso tempo stiamo sviluppando una community di genitori, che permetta di educarli e di informarli riguardo alle nuove sfide dell'educazione digitale. Siamo in Regione perché siamo certi che la Regione Veneto potrà fornirci tutto quanto il supporto necessario per lo sviluppo, la diffusione e la distribuzione della nostra start-up, e che ci permetterà di raggiungere il grande pubblico e i genitori, che sono il centro del nostro sviluppo tecnologico. Integriamo in un'unica soluzione elementi dell'intelligenza artificiale e elementi delle più innovative strumenti di analisi dell'interazione tra utente e prodotto. In questo modo riusciamo sempre a sviluppare delle soluzioni personalizzate e mirate, costruite proprio intorno all'utente finale, ossia al bambino e al ragazzo. Sicuramente abbiamo trovato in Italia alcuni esempi. Per quanto riguarda l'estero, ci muoviamo lungo le linee della Khan Academy, che ci ha dato un esempio pratico di apprendimento esperienziale legato all'interazione tra il ragazzo e il corso che segue. Certamente, nonostante abbiamo dei modelli sia esteri che nazionali, puntiamo a sviluppare un prodotto che abbia delle caratteristiche ben definite e soprattutto completamente personale. Dal punto di vista finanziario, sicuramente vogliamo accedere ai bandi di cassa depositi e prestiti per quanto riguarda i bandi per le piccole e medie imprese e ci appoggiamo in generale a tutto ciò che la Regione Veneto potrà fornirci in termini di liquidità e di supporto di visibilità e comunicazione. Potete collegarvi alla nostra pagina Instagram per vedere aggiornamenti sul progetto, collegatevi a myferi underscore official, cercatelo su Instagram, o in alternativa potete collegarvi al nostro primo sito, ossia www.ilregnodellefiabbe.it, dove troverete in tempo reale la possibilità di restare aggiornati e di scrivere la nostra newsletter.